Siamo sulla carriera con Napoli, con l'Inter, abbiamo una squadra buona, Mertens, Lukaku e Balde, Scenabisi sono Vecino, Senza e Gagliardini, in difesa c'è D'Ambrosio, Codini, Spino e Filiberis, Inoltre c'è il Nostrandano, inoltre c'è Ospino, pure c'è Versalico, Raga questo qua è FIFA, diciamo non è FIFA 20. Allora, se la giochiamo contro il Napoli, perché io sono primo e loro sono secondi, aspetta un commento, ciao cari! Mi metto questo, Letizia e Goal, Uh interessante, Io raga metto Campione, che non è una modalità brutta per me, un po' Un po' C'è avisa? C'è avisa? Sì, è la crenca! Aspetta! 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 Mamma! ok, guarda non riparo che non è domani in una scuola mamma ok, guarda non riparo che non è domani in una scuola uuuh, due spettatori dori sul mio canale grito sul mio canale è Noemi tieni tieni, teglielo alla mamma tieni mamma oh, te ne vai mamma, non lo farei cominciare però bene, te ne vai ti lasciamo là a scuola fino a mezzanotte sì, mezzanotte vedi che oggi non posso giocare tanto perché adesso non mangiare da mio nonno ma tu non ci sei andata a scuola sì, ma me ne sono andata a mezzogiorno prima perché mia sorella ha fatto la res che ho la febbre? ho la febbre, ho il tre in bordo non so, ora ho il tre in bordo non so, ora ho il tre in bordo non lo so e poi ho la tosse tutti i treni sì leggenda è troppo facile eh, in inglese campione è troppo facile io se non sbaglio avevo ancora il quarto di finale e Napoli, Barcellona Baren, campione, se c'è andato l'Atalanta, la Juve, il Napoli il Lione, il Tottenham, il Monaco, il Valencia Atalanta, Valencia sì, lo so ma un mio compagno mi ha detto Juve e Lione io sono su YouTube e ho visto che c'era scritto la Juve negli ottavi di finale se si scontrerà contro il Napoli ma quando è mercoledì? oh, febbre me allora ancora poi ma l'andato ha perso 3 a 2 però fuori casa perché ho fatto due gol fuori casa perché ho conoscato da 4 Napoli è sceso mi va bene ma ma cagliegona si dice cagliegono o cagliegono? cagliegono oppure cagliegono in Spagna si dice cagliegono invece il Savorano la chiama cagliegono cagliegono dai 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 la vuoi prendere? uuuuh bravo dribbling anche se hai perso la palla bravissimo rialzati nooo cosa? devi staccare no non ho capito non ho capito lei mi legami è una porta che ti fa parte ma non sai che è quello che mi ha fatto guarda ha tirato in segna la parata ci vuoi di nuovo in segna andare a cucinare per rimanere davanti alla porta non so come ho fatto ad entrare quel pallone ah no ha tirato il millic con il sinistro la parata io l'ho fatto il triangolo per uscire e gliel'ho buttato di sopra ma l'ho attaccata con le dita va bene dai uno a uno si? eh tu te l'intero ti hai mangiato il numero 27? io ancora mi do mangiare quello di ieri ah ah un secondo ah un secondo ok 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 raga 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 bald ancora ci arriva tantissimo ancora sensi con il numero 7 solo smarca come un dribbling se ne smarca come un birillo bravissimo ancora sensi ci prova brutto dio voglio rivedere come l'ha fatto sto dribbling ma perché sono andato quel lato ma gli ho mandato un video alla mamma ti perso dove le vende l'hai visto? no ma è un mostro vado 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 io che ho fatto ti ricordo che ho fatto ti ricordo che ho fatto mamma saluto dov'è? dove è il treno che mi ha trovato? vado ti ho mandato un messaggio dietro per farglielo vedere qui se ti ho visto a dirmi vediamo che sta da sé ma ci c'è la questa è il treno no non c'è la vado è un mostro qui è un mostro vediamo prendi daniele ma oh cerca di sistemare tutto questo va perché ti perso si pronto vai aspetta voi te le fanno a 12 per cento dai dai non so che hai fatto i rinforzi un po' vado 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 non perso vado 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 oh ci sei è in barca come dire oh 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 no chissi un attimo che c'è sto chissica c'è 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 dai 2 a 1 ma che schifo raga però abbiamo mille volte la miglior squadra che c'è in serie a ce l'abbiamo quasi che c'è in che c'è anche di me che ha Gabriel Jesus con i bellini c'è 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 non uscire come hai sbagliato anche io la avrò toccato il portiere però beh si no la potevi mettere dentro faccio il min dai maschimovic Zininski Piero Zininski ancora ancora fermalo Fabian Ruiz ancora e non perdere palla però qua mi fa piacere guarda che male parada la sei buttata a caso prima e l'ha presa dai corri lo sai che me la figura ci sto facendo sto vingendo una zero ora sto perdendo 2 a 1 ma c'è anche io poco fa no 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 mamma ma non sto mangiando più del nonno ok dai dai perché non è tenso ah vai a balde sta giudando la panemoto ora basta faccio entrare a martinez eeeh martinez e basta dai martinez dai martiii solo tu per cambiare la partita che al novantesimo segnato no dai balde però vale balde fa dei diri schifo oh ma non fate passare facilmente dai balde 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 sono tutti sono tutti su uno mancuno ce l'ha fatta FESINO ma dai hanno quel sesene che le para tutte non so come l'ha parata prima assomai merda in questa stagione non entrò alla success squadra guarda vale vale chi sono vale cerca di eliminarlo dalla tua vita vale perché questo è un po' poco male ci fai un buon ifu vale o no io non mi vieni sono tutti guardati godin però screener screener dai mamma come ci è arrivato il mio grande marte ci sta facendo la letteriana a babbo natale ci sta facendo la sorella ma sta leggendo il libro ma che libro a che libro a delle bambole perché me l'ha detto mia mamma che non è purtroppo l'ha detto se giocando prendi bene solo solo cosa sta giocando sono martens da me stanno l'importante è divertirsi d'ambrosio un tiro buono sapete fare nessuno sono martens sensi dai scrignare perché le rubi il pallone martens polo con la soltantesimo quasi grandissima non capito niente eccoci a conti l'importante è divertirsi bravo bravo la regola da noi giocogliera guarda con il destra volo palo con aia palazzini bellissima mi piace ma sono molto raffreddata e le piega sai che se avrò col più sparerò bevi i bossoli a terra neve molto bello da cambiare il bocchetto dai bravo 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 te balde balde dai 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 balde dai che sono ma perché al primo palo c'era cosa solo non so chi mi pare Filippo Luiz solo le amiche il compleanno è ancora più bello quando ci fanno belle magiche amiche dai dai grande Filippo grande Filippo ancora ancora Martini Rete è il 76esimo guarda un bar è grandissimo passaggio filtrande di mi pare Filippo Luiz no di Vecino vai in attacco vai in attacco tira e la para Scesni ma va in porta lo stesso Martini Martinez Mertens e Lukaku stavo perdendo 2 a 1 recuperato 3 a 2 siamo quasi 80esimo di questa partita mamma cosa mi devo mettere? le montande di mio nonno quelle Mertens Mertens bel passaggio lungo per Balde ancora Balde d'Ambrosio 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 che fai? ma tira non manda fra le stelle perché? quindi a piano tavola ti dobbiamo andare a piedi? Mertens con un destro bellissimo bestiaio eh ma tu già la recita l'hai fatta? l'ho fatta ieri ma che buono e oggi avevo e oggi avevo il concerto con le medie però non ci sto andando perché ho il studio di mia sorella ma tu mica vieni? si e con chi sto a casa? papà non c'è? non so ma ti sto a casa con la nonna si con la nonna con le pede stanno vedendo io c'è un bar c'è un fè di peri dove è? mamma a casa di mia nonna posso dire una cosa? c'è pizza ci chiede solo due crisi a stagio mio? ma? mamma solo due crisi e ci chiede a stagio mio? mamma ma il pubbolo il suo anno nonno e papà? e papà ma papà non c'è un fè di più io ho lavenimento ma è che era pure il nonna io mi vado e tu ti stai qua perché? che cosa devi fare? guarda io ho lavengo si si viene con me? dove? si ho lavenimento quando? a te ma se stasera devi venire là ma chi te l'ha detto papà non viene al mio saggio mamma papà non viene? mamma mamma sei felice di andare al ritenamento oh oh stavo sentito in attenzione stai con me no ma hai certo che è il battaglio di vita il battaglio di vita papì papà 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 io grido guarda lo puoi vedere che è mala squadrona vieni guarda mi zicata contro l'Empoli sono primo con 41 punti da io in a 37 che è secondo oh di quanto io in classifica ero ultimo sto giocando eh sì però non ci vedo ma è distratto papì ho tanti di fine di coppa nazionale inter bologna va bene lo gioco perché ovviamente vieni stasera tu vieni no 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 lukaku lukaku è un'ambulanza è una mamma come certo in che senso non mi nasce a me bar i miei quattro attacchi Mertens Vecino D'Ambrosio è un giocatore del Napoli sono stati aspetta l'accetto la cosa con l'Inghilterra sì sì no no ma io ho detto dai dai per sbagliare una società mi vabbè vuoi fare dimettite puoi fare dimettite adri sì lo so oh mai mi tengo se squala vabbè è buona come squala ho picford ma chi è questo come mi importa sì lo so lo conosco però dico perché c'è lui perché è forte sì 84 allora buona guarda guarda chi ho di attaccanti sterling kane ericane lingad chiede è di ma bella ma allie king's sand chamberlain poi io difesa show moguire stone alexander alnord ex ford px ma io ce l'ho più forte un guarda dell'inter metters martine se balle aspetta allora allora c'è mi pare io te vi divino contro il bologna di coppia nazionale no dico con quale squadra stai giocando di carriera inter ma non è che non la fanno la condivide con l'atelanta mi mette a prendere nessuno zagnolo dice non ti scatti proprio zagnolo tirava non brindava mai la porta e allora la facevi con con l'ajax quella che già avevi insomma me ne va perché che si è fatto male che non mi fa non va bene ma abbiamo vinto 2 a 0 se cerco solo devo giocare perché 2 a 0 posso anche perdo come anche dai lucavo di 6 no lucavo ancora il bambino sai ma regalda e questo è un secondo che do andare a mangiare sicuro va bene sto salendo con uno a uno ok oh 90 di valutazione per la mia squadra grandissimo 88 però da a con dire torino tu te 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 tu te te tu te te tu te tu te da un raggio a mario che è entrato del cartellino rosso guardate a crissi ragazzi se non vinco ragazzi se non vinco proprio se non vinco sono morto oh aspetta mamma quante cose mi hai messo in questa valigia calendario non ci servono altre cose ok mizzica ragazzi la devo giocare già vi ho buttato fuori il pallone per il 2 a 0 però dobbiamo stare attenti per l'alazzo napoli atalanta poi se vado anche contro il napoli di nuovo allora va 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 ancora sei infortunato ma da la 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 lululu o spina si 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 ragazzi spina spina napoli atalanta chi vincerà napoli o atalanta chi vincerà il napoli o l'atalanta oppure tra aspettate ah vai sei più scasso di me non hanno spina bellissima mi manco una l'ha fatta di parata dai come va a sbagliare ma solo questa sa fare di parata però bella bellissimo spina però non è che appare gol perchè questa partita è importante per il nostro futuro futuro ancora inizia questa bella partita vola ma perchè c'è bel cavallero beh vai felipe 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 luis felipe luis felipe luis vedete in mezzo roberto e radu e che importa radu bellissimo con dreva ahhh 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 hanno piani c'è ma dai yes martens ma che importa è roberto chi è roberto ambo ambo davodio davodio o oggi c'è la sfida tra l'autaro martinez e ciro immobile forza 5 a quale forza 5 forza Lautaro forza Lautaro oh Andrea va andrà più veloce perchè se no marciamo morti un buo un buo un buo di vidido ancora 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 dai però quando arriva Spen Svattai Andiamo Aspetta che erano in un messaggio Grazie a tutti Grazie a tutti Roberto Ancora senza Pergodin Sto spegnendo Mamma andiamo No veramente Non la volevo fare un po' Non c'è la signora Di Gattano Non c'è la signora